Dopo Ferragosto parte il tavolo per il futuro di Baxi, ma la politica chiede sia spacchettato da quello su Pengo. Tempo di viaggi, tempo di vacanze, ma i bassanesi guardano lontano oppure stanno direttamente a casa. Lupi scatenati in alto piano, il sindaco di Gallio chiede che partano gli abbattimenti come in Trentino. Parti in Brasile alla ricerca di Veneti nella più grande comunità di emigrati. 417 anni fa nasceva Beata Giovanna Maria Bonomo, copatrona della città di Bassano. A settembre torna Medi Malga ad Asiago, un volano per il turismo dell'altopiano di Sette Comuni. Nell'Alta Padovana, scuole di Borgo Ricco e Campodarsico, rese più efficienti dal punto di vista energetico. Carmignano, sempre più a misura di biciclette e pedoni, inaugurata una nuova pista ciclopedonale. Buonasera, buon Ferragosto a tutti voi, benvenuti al Tg Bassano. Anche questa sera parliamo del caso Baxi-Pengo-San Lazzaro, perché è stato annunciato che dopo Ferragosto partirà un tavolo di lavoro, ma ci sono dei ma. Ferragosto è arrivato e si porta via tanto le vacanze estive quanto il momento di bonaccia nella bufera che ha investito la città prima e dopo la bocciatura in consiglio comunale del protocollo Baxi-Pengo. Ma i fuochi e le grigliate di Ferragosto non porteranno alcun cambiamento da parte di chi ha già fatto capire cosa pensa della vicenda. Per noi non è cambiato nulla, noi lo chiediamo questo tavolo dal 27 di luglio, abbiamo fatto una mozione in consiglio comunale, non è stata votata, non è stata approvata, non hanno voluto ragionarci su e adesso siamo tornati a quel punto di partenza in cui noi abbiamo chiesto un tavolo per la Baxi, per la situazione occupazionale. La parola d'ordine è spacchettare. Tutti sono d'accordo sulla tutela di Baxi e sulle valutazioni per il futuro di un punto di riferimento storico per la città. E ora che i rischi occupazionali sembrano essere stati messi in ghiacciaia, molti sono d'accordo anche sul mandare su un binario morto il progetto di Pengo per San Lazzaro. Non c'è nulla che fa credere che si debba trattare il tema Pengo insieme al tema Baxi. Anzi, non c'è nessun tema Pengo. C'è una richiesta di costruire una stabile in zona agricola che è stata rifiutata e rispinta per diversi anni e deve rimanere in questa maniera trattata in maniera separata da quella della Baxi. Sì, quindi è un tavolo per Baxi con tutte le valutazioni del caso, ma per le minoranze dovrà essere un tavolo più grande possibile. Abbiamo detto e abbiamo ripetuto più volte che siamo disponibili ad un tavolo con i sindacati e con la proprietà e siamo disponibili però anche ad avere delle persone credibili che gestiscano questo tavolo. Quindi l'amministrazione si deve fare parte dirigente ed anche essere in grado di poter fare un ragionamento più ad area vasta anche coinvolgendo eventualmente i territori e i comuni vicini. All'orizzonte c'è però anche il possibile ritorno in consiglio comunale del protocollo già visto e rimandato al mittente con qualche rimescolatura. Ma le minestre riscaldate non sono cibo estivo e il piatto rischierebbe di andare per traversa qualcuno. Sarebbe una presa in giro della città, sarebbe una presa in giro dei consiglieri comunali, ci sono anche dei grandi dubbi giuridici sul fatto che si possa semplicemente shakerare un attimo la stessa delibera che è stata bocciata due volte in consiglio comunale. Per cui noi riteniamo che non si voglia e non si debba ritornare a trattare lo stesso tema. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo voi potete dirci come la pensate sul caso Baxi, Pengo, San Lazzaro facendoci sapere Capanoni o Campagna nell'ultimo lembo di verde bassanese al numero di whatsapp 340-321-8379 o via mail a redazione chiocciolareteveneta.it Cambiamo decisamente l'argomento, parliamo di vacanze. Sentite cosa fanno i bassanesi quest'anno. Un'estate dalle tante facce, la pioggia, il caldo affoso, le grandinate e poi tante cartoline custodite nell'album dei ricordi per chi in vacanza, in ferie è già andato e tanti desideri, tanti sogni da mettere in valigia per chi invece si appresta a partire. Allora scopriamo un po' insieme questa estate bassanese. Oggi è il primo giorno di vacanza, sì. Quest'estate va male nel senso che si fanno quattro giorni ma cerchiamo di goderceli. E dopo uscita di giornata. Dove si va quest'anno in vacanza? Sicilia, quattro giorni in Sicilia ma perché c'è un amico che si sposa. Noi dobbiamo ancora andare in vacanza. Stiamo ancora valutando se ci sono offerte perché con il caro vita chiaramente bisogna stare attenti a quello che si spende e aspettiamo nei prossimi giorni come si evolve la situazione. Vacanze in Italia o all'estero? All'estero, stiamo valutando all'estero, sì. Di solito faccio a settembre perché penso anche per i costi e anche per meno, io sono in pensione sì che posso anche un po' gestirmi un po' le vacanze sì che di solito preferisco in settembre anche per meno, cioè c'è meno caldo e anche meno confusione, insomma. L'estate sta finendo, diciamo. Le vacanze, lei è andata all'estero, è andata fuori, regione al mare, in Italia? Al mare in Liguria e adesso qua. A casa, a casa. Sono in vacanza. Vacanze da fare a casa? Esatto, esatto. Come mai a casa? Perché ho tante bestie. Ho tante bestie, bisogna stare a casa con queste che bestie. Un'estate un po' particolare, anche piovosa, non caldissima. No, va bene così, va bene così. Così mi accodo di più. Io le ho finite, proprio questi ultimi giorni e purtroppo quest'anno sono rimasta a casa perché non avevo tante possibilità economiche per uscire però comunque mi sto godendo di più Bassano del Grappa che è una cittadina bellissima e ho scoperto anche i musei che sono andata a visitare e sono stata molto contenta. E lei signora, vacanze? Casa sempre, ma sono a casa. Oggi una giornata di festa ma una giornata anche di spiritualità e a Bassano c'è un motivo in più. 417 anni fa nacque in questo 15 di agosto nel giorno dell'assunta Beata Giovanna Maria Bonomo copatrona della città di Bassano del Grappa. Era figlia di un ricco mercante di Asiago e la leggenda narra che al padre che credeva non fosse sua figlia lei da bambina tolse ogni dubbio alzandosi nella culla e chiamandolo con affetto papà. Una parola tanto semplice quanto intensa che fece capire all'uomo come l'anima della piccola Giovanna fosse privilegiata. La maggior parte della sua vita la trascorse a Bassano nel convento di San Girolamo dove l'8 settembre del 1621 Natività della Vergine Maria indossò le vesti di Suora Benedettina per poi pronunciare la professione solenne un anno dopo. Fu proclamata Beata da Papa Pio VI 113 anni dopo la sua morte. Una presenza ancora viva per la città di Bassano e per il convento l'attuale monastero delle Suore Sacramentine dove la religiosa visse la sua esistenza terrena. Un'esistenza caratterizzata dal dono della biloccazione e dalle stimmate che aveva ricevuto. Per lei in questo ferragosto 2023 è festa a Bassano come ad Asiago l'altra città di cui è patrona Beata Giovanna una donna unica cui ancora oggi in tanti affidano la loro preghiera. Cambiamo decisamente argomento perché non vanno in vacanza i lupi selvatici e non vanno in vacanza nemmeno le predazioni in alto piano e c'è chi chiede di dar via agli abbattimenti. Sui lupi il Trentino fa uno strappo in avanti ottenendo dall'ISPRA l'istituto che si occupa della fauna selvatica il via libera per l'abbattimento di alcuni capi ritenuti pericolosi. E l'alto piano che condivide con la provincia autonoma il problema dei selvatici non vuol restare a guardare. Come sempre l'Italia perché il Trentino è regione autonoma anche se in Italia ma è un fratello che gode appunto di privilegi superiori a noi il Trentino va un po' avanti fa passi in avanti noi invece in Italia rimaniamo sempre indietro. C'è questa apertura speriamo che in questa gestione nazionale del lupo si possa arrivare anche in Italia a poter individuare quei soggetti quei lupi particolarmente facinorosi particolarmente pericolosi per l'uomo ma anche per il bestiame e quindi poter in qualche modo intervenire su quei soggetti. Il rischio secondo il primo cittadino altopianese è che ci si abitui a una situazione che invece non è ritenuta accettabile da chi in montagna vive e lavora. Purtroppo come sempre in Italia quando c'è un problema e non viene risolto in qualche modo la gente poi si abitua. Io invece tengo sempre alta l'attenzione su questo tema perché ripeto la convivenza lupo e uomo deve essere certificata deve essere monitorata altrimenti se non facciamo solo l'interesse di una parte e lupo resta ancora oggi una specie in via di forte espansione e non più di estinzione e quindi dobbiamo intervenire. Il sindaco di Gallio chiede quindi che si possa passare anche in alto piano alla selezione con abbattimenti mirati o almeno con lo spostamento degli esemplari più pericolosi. Io l'ho sempre detto ormai sono anni 6-7 anni che parliamo di questo mi dispiace che molti colleghi e molti politici non vogliono parlare e toccare questo argomento perché magari in qualche modo vanno a sensibilizzare o stuzzicare quello che sono le menti ambientaliste ma io sono ambientalista io sono figlio di un forestale ma dobbiamo capirci bene perché l'uomo ha voluto introdurre il lupo e l'orso dobbiamo anche monitorare cosa fa il lupo cosa fanno l'orsi perché altrimenti rischiamo noi la pelle e quindi c'è necessità di intervenire ma ormai siamo stanchi di dirlo. Restiamo in alto piano per un'importante manifestazione che torna all'inizio di settembre. è imminente l'inizio di Made in Malga sono gli ultimi preparativi noi siamo contenti di come stanno andando le cose e della collaborazione che troviamo soprattutto nella comunità dell'alto piano c'è grande entusiasmo da parte dei fans che ci scrivono ci chiedono notizie ci chiedono il last minute cosa c'è da vedere cosa c'è da fare. Scatta il conto alla rovescia per l'edizione 2023 di Made in Malga che tornerà ad animare il centro di Asiago dall'1 al 3 e dall'8 al 10 di settembre. Protagonisti saranno come sempre i formaggi di montagna tanto al mercato quanto nelle degustazioni e nelle masterclass per conoscere questo prodotto di grande interesse. I protagonisti assolute sono i formaggi noi per scelta non chiamiamo i personaggi dei gossip del momento ma cerchiamo di dare lo spazio assoluto ai formaggi quindi chi viene a Made in Malga ha la possibilità in un pomeriggio di assaggiare i migliori formaggi di montagna da tutte le zone montane italiane quindi dalla Val d'Aosta anche alla Sicilia passando per la Sardegna e dal centro Italia. Made in Malga porta decine di migliaia di persone in alto piano in ognuna delle sue giornate e questo è un volano per tutto il territorio dei sette comuni. Troviamo diciamo soddisfazione e comunque la complicità di tutto l'alto piano che insomma si dà da fare per accogliere turisti che vengono da ogni dove per passare due weekend all'insegna del buon gusto e dei sapori della montagna anzi direi di più ne approfitto anche per quelli che sono più vicini ad Asiago l'alto piano prendetevi una notte prendetevi una notte in più perché c'è tanto c'è da vivere in Made in Malga questo che faremo ora non è un viaggio turistico semplicemente è un viaggio alla ricerca delle radici del Veneto un viaggio di quasi un mese a contatto diretto con i brasiliani figli di Veneti immigrati negli ultimi 150 anni Giorgio Miazzo sarà in Brasile fino al 4 settembre ricordo che il Brasile è il paese che ospita più italiani discendenti oriundi al mondo con 30 milioni di presenze ed il 40% di questi sono di origine veneta quindi la prima comunità così che abbiamo di Veneti anche fuori dai nostri numeri e si dice spesso che loro sono l'ottava provincia veneta proprio per questo mantenimento questa cristallizzazione di usi e costumi che non si verifica poi nessun altro dei paesi stranieri nonostante l'Argentina gli Stati Uniti per esempio Australia Canada abbiano comunque grandi percentuali di migranti non si è mantenuto per motivi storici di processo storico non si è mantenuto lo stesso così patrimonio in maniera così forte e viva e quindi finché ce l'abbiamo dobbiamo riportarcelo anche a casa per raccontare anche i nostri giovani di queste grandi immigrazioni che purtroppo non si conoscono manca un capitolo nei libri di storia che parla di questo fenomeno incredibile che ha svuotato l'Italia quattro gli stati che toccherà il suo viaggio Rio Grande e Dossul Santa Caterina Paranà e Guias particolare nel paesino di Nova Venesa tutti i veneti Vicentini Trevisani Bellunesi Padovani però non conoscono niente della propria storia quindi è la prima grande festa che fanno la prima grande settimana sulla cultura dell'italianità quindi racconteremo storia geografia e tanto altro in modo che possano conoscere e forse fare finalmente quel viaggio di ritorno che non hanno mai potuto fare anche se questa volta idealmente però credo sia anche un loro diritto poter conoscere le proprie radici la propria identità e sono temi molto intimi molto importanti che hanno a che fare anche con l'autostima delle persone e che si tramandano poi di generazione in generazione Ricca di Veneto ha anche la toponomastica in Brasile In Brasile ci sono tanti nomi ancora legati alla toponomastica a questa Nuova Venese ce ne sono altre due di importanti in Brasile che poi bisogna ricordare giustamente tutti ci sono Nuova Vicenza c'è una Nuova Padova che è ancora in piedi di un gemellaggio con il paese di Fontaniva in provincia di Padova Nuova Belluno e tante altre L'esperienza sarà raccontata in collaborazione con la regione nel rientro uno stato il Brasile dove l'italian è una lingua vera e propria è uno dei lasciti che rimane nelle comunità migranti all'estero in realtà noi osserviamo anche realtà molto belle che non voglio dimenticare come quelle dell'Argentina del lunfardo del cocolice il sicul English o il broccolino o l'italo americano ancora utilizzate in Canada o negli Stati Uniti ma sicuramente l'italian per noi veneti è qualcosa di incredibile si dice che ancora si parli questa lingua da circa due milioni di persone che cos'è l'italian? è difficile da definire però è un veneto perché in realtà i veneti poi hanno anche così influenzato linguisticamente anche i bergamaschi che a volte mi dicono io sono bergamasco ma me lo dicono in veneto i firulani e tante altre comunità del nord Italia a volte anche del sud ma molto più raramente e con degli influssi in portoghese quindi dove le parole italiane veneti in questo caso non esistevano e con insomma il passare degli anni eccetera eccetera si è evoluta quindi è diventata una lingua nuova possiamo chiamarla un fratello del veneto io mi senterei di chiamarla così e soprattutto per noi ecco è un miracolo linguistico che come ricercatori abbiamo tutto il dovere ecco di dover salvare sono moltissime le comunità anche della pedemontana che trovano radici in quei luoghi così lontani adesso cambiamo ancora argomento parliamo di un problema molto molto più vicino sentite nel pieno dell'estate con una situazione che è simile agli anni scorsi difficile ma gestita con passione e professionalità il canile San Francesco di Presina si prepara a celebrare i primi 20 anni di attività il primo ottobre rifesteggerà con la tradizionale messa con gli animali dall'inizio a oggi in questa struttura sono entrati oltre 6 mila cani proviamo a contare fino ai 6 mila mettiamoci vicino un cano il 90% dei quali ha trovato un nuovo padrone questi sono numeri non sono opinioni nel frattempo è cambiato il tipo di cani che entrano non più animali catturati dalla calappia cani ma cosiddetti casi sociali cani anche di grossa taglia che le persone prendono e poi non sanno gestire non sterilizzano e che a volte mordono e allora si rivolgono qui perché in difficoltà in questi 18 mila metri quadrati del parco zoofilo San Francesco ci sono 38 ampi box e una capienza di 200 cani 28 i comuni di riferimento dell'Ulss 6 a fronte di un calo dei cani su cattura c'è stato un aumento dei cani frutto dei casi sociali purtroppo le entrate non sono diminuite e quel che è peggio sono molto più problematiche fondamentale la collaborazione tra istituzioni e questa struttura nella quale la procedura per adottare un cane è seria spesso può esserci anche un periodo di prova la persona viene in canile fa il giro del canile accompagnato sempre da un volontario in modo che possa individuare le caratteristiche del cane poi se scatta la cosiddetta scintilla si procede con le pratiche burocratiche prima delle pratiche burocratiche vengono fatti anche dei preaffidi successivamente se c'è la necessità restiamo in contatto con le persone in modo da poter dare dei consigli sul comportamento del cane i cani vengono affidati alle famiglie con microchip e vaccinazioni e nel 90% dei casi sono anche sterilizzati molti chiedono i cuccioli che però non sono sempre la soluzione migliore i cuccioli sono un'arma a doppio taglio nel senso che il cucciolo quando è cucciolo è piccolo quando comincia a crescere non si sa che dimensioni vengono arrivi e soprattutto quello che raccomandiamo tanto tanto amore verso questo esserino a quattro zampe importanti lavori in arrivo per le scuole dell'alta padovana torneranno in scuole più verdi amiche dell'ambiente gli studenti di Campodarsico e Borgoricco che il 13 settembre potranno godere di nuovi serramenti e di impianti fotovoltaici a Campodarsico nella scuola secondaria Giovanni da Cavino è stata completata l'opera di sostituzione dei serramenti nuova l'illuminazione delle scuole primarie di Via Verdi e di Via Aldomoro la scuola di Via Verdi ha visto anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico che permetterà notevoli vantaggi dal punto di vista non solo economico per la comunità da Campodarsico a Borgoricco dove in tutte le scuole primarie la Minniti di Sant'Eufemia la Locatelli di Borgoricco e l'ammazzoneto di San Michele delle Badesse si tornerà a lezione a settembre con un'efficiente ristrutturazione ambientale attraverso l'installazione di moderni impianti di pannelli fotovoltaici realizzati grazie a contributi a fondo perduto per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili Carmignano sempre più a portata di ciclisti e pedoni 600 metri di lunghezza una larghezza di 2 metri e mezzo ecco la nuova pista ciclopedonale che collega il quartiere Boschi al centro del paese a sud di via Monsignor Belluzzo Questa pista ciclabile è stata terminata in tempi record con 4 mesi di anticipo e il suo costo complessivo è di 600.000 euro di cui 300.000 finanziati dalla regione un'opera finanziata dalla regione con 298.000 euro e del comune di Carmignano di Brenta con 302.000 euro La nuova pista ciclopedonale di via Monsignor Belluzzo rappresenta un passo importante per un paese sempre più moderno sostenibile e attento alla qualità di vita dei propri cittadini di fatto è un'opera strategica perché collega il quartiere Boschi con i servizi del centro del paese Lungo tutta la pista ciclabile è stata realizzata un'attenta piantumazione il tratto sarà illuminato interamente a led un'opera fondamentale anche per i cittadini più piccoli perché collega il quartiere Boschi al nuovo polo scolastico e servizi sanitari Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordiamo che questa sera alle 21.15 andrà in onda qui su Reteveneta il film Il corsaro dell'isola verde un film d'avventura con Bart Lancaster grazie per essere stati con noi vi auguriamo ancora un buon ferragosto e una buona serata e un buon ferragosto